Cosa successe di fronte a questa riforma che Lutero, anche a suo malgrado, non volendola innescare, sappiamo infatti che lui dice in una memoria verso la fine della sua vita, quando ricordando episodi, fatti che avevano puntellato, segnato la sua storia, disse io in realtà non ho fatto niente, io non ho fatto niente, è stata la parola di Dio a fare tutto, perché riconosceva che la riforma non era nata da un disegno umano, da una strategia ecclesiastica o da una politica di carattere religioso. Certamente Dio si era servito anche di chiese, uomini, donne, iniziative, incontri, ma il protagonismo che Lutero riconobbe che aveva suscitato, mantenuto e sviluppato quello che era successo era da attribuire a Dio, in un modo tipicamente di Lutero, la citazione completa in realtà dice così, io non ho fatto niente, ha fatto tutto la parola di Dio, io bevevo la birra con Filippo, Filippo Melantone, il suo collega più giovane con cui condivise molte battaglie, ma per dire che riconosceva il fatto che Dio avesse operato, non tanto l'iniziativa di uomini che per quanto capaci avessero ingegnato tutto quello che era successo. E questa seconda parte voglio farla precedere da un'altra lettura dell'Apostolo Paolo, che è dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, e dal versetto 3 al versetto 5. Paolo dice «Sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo». A nessuno piace parlare di guerra, soprattutto dalla mia generazione in poi, non avendola vissuta, culturalmente siamo impreparati, incapaci di capire che cosa sia una guerra. E a nessuno piace sentire parlare di guerra, però, che ci piaccia o non ci piaccia, la parola di Dio ci dice che siamo in una battaglia. Se non affrontiamo la vita cristiana con l'agonismo di una battaglia, stiamo, per usare un'espressione di Paolo, combattendo contro l'aria, come un pugile che sale sul ring da solo e mena pugni fendenti, ma non colpiscono nessuno. E quando arriva il vero pugile avversario, mena due o tre cazzotti al posto giusto e fanno male. La nostra vita è una battaglia e la battaglia non è contro uomini e donne, è contro carne e sangue, dice Paolo, è una battaglia spirituale, è una battaglia contro, dice Paolo, i ragionamenti, questi modi di pensare bacati, deviati, distorti, fuorvianti, che invece di condurre verso Dio in Cristo solo, depistano, deviano, fanno andare altrove e portano le persone lontano da Dio. Ora, la riforma è stata una grande battaglia spirituale contro dei potenti ragionamenti umani che con il rivestimento religioso e anche ecclesiastico invece di condurre gli uomini e le donne a Dio in Cristo li depistavano e li facevano entrare in un labirinto, li facevano entrare in una spirale discendente che invece di portare a Dio portavano lontano da Dio. Questa è la battaglia che i riformatori combatterono nel XVI secolo e che anche noi, ogni generazione di cristiani deve combattere in ragione del fatto che questi ragionamenti si rigenerano e si riciclano come le arabe fenici che si riportano in una giovinezza che li fa apparire ancora attraenti e affascinanti attirando attenzione e seducendo la mente di molti. La riforma, in altre parole, è una vocazione permanente nella Chiesa. Cioè questa chiamata a combattere per l'Evangelo, a tenere alta la parola della vita, a indicare che solo in Cristo è la salvezza, che solo la scrittura è la parola di Dio, che solo la grazia è il fondamento della nostra salvezza, che solo la fede è la mano nuda attraverso cui il dono della salvezza può essere ricevuto, che solo per la gloria di Dio si può vivere bene e si può vivere in modo glorioso. Queste sono battaglie costanti da tenere in piedi nella nostra vita, perché forse non abbiamo più le istituzioni o i papi o i concili contro cui i riformatori dovettero combattere, ma ne abbiamo di diversi e forse più suadenti, forse col sorriso, forse più francescani, forse più gesuiti, forse più seducenti, forse più amichevoli, forse più abbraccianti, forse più inclusivi, ma altrettanto fuorvianti di quelli contro cui Lutero e la prima generazione dei riformatori dovette combattere. Cosa successe dopo l'affissione delle 95 tesi? Ebbene, la Chiesa Cattolica provò a chiudere subito il discorso applicando la misura coercitiva della scomunica, non accogliendo l'invito a discutere, ad approfondire, ad ascoltare veramente quelle che erano le istanze che Lutero voleva suggerire e che erano centrali, non erano periferiche, la Chiesa del Tempo rifiutò la via dell'ascolto e del dialogo, ma provò a spegnere subito quella protesta con la forza della scomunica, con un atto violento di potere ecclesiastico. Tu hai affisso le 95 tesi? Noi non ne vogliamo parlare, anzi, sentiti scomunicato, e cioè perduto per sempre. Certo che questa strategia non fu veramente vincente, perché invece di placare quella protesta che, ricordiamo bene, protestare non significa essere arrabbiati contro qualcuno, vuol dire testimoniare a favore di qualcuno. La riforma protestante è un movimento a favore della verità della parola di Dio, non primariamente contro qualcuno. Ancora oggi si sente dire ma Lutero ruppe, protestò contro la Chiesa del Tempo. Assolutamente, era una testimonianza a favore della parola di Dio. E quindi, se questa testimonianza a favore ha portato anche a una rottura, ebbene, è stata generata non da un desiderio di separazione, ma da un desiderio di fedeltà, a cui è seguita una allora inevitabile rottura. Ebbene, provò la Chiesa a schiacciare questo anelito di riforma con il potere ecclesiastico della scomunica. ma questo non placò, non sopì i fermenti che ormai ispiravano non solo a Wittenberg ma in tutta Europa, anzi, li incendiò ancora di più perché si capì, le menti illuminate dallo Spirito Santo capirono che questa istituzione era primariamente governata non dall'amore della parola, ma dal desiderio di auto-perpetrarsi e di auto-consolidarsi. Era diventata una istituzione auto-referenziale, non più sottomessa alla parola, ma auto-referenziale. Lei, questa istituzione religiosa, era la regola di se stessa e quindi sentendosi minacciata non da un'altra istituzione ecclesiastica che non era il desiderio di Lutero fondarla, ma da un appello della parola di Dio reagì cercando di schiacciare chi la stava portando avanti questa parola. Però il risultato fu invece di placare, di incendiare ancora di più e quindi questo movimento diventò un movimento diffuso, trasversale, internazionale e la Chiesa cattolica impiegò quindi più di 40 anni per capire cosa fare con questo movimento che ormai aveva attecchito dalla Inghilterra alle Alpi, dalla Francia fino alla Polonia. Aveva attecchito in maniera trasversale il continente europeo, in più lingue, in più paesi, in più contesti, non poteva essere più contenuto con la sola forza della scomunica e allora convocò un concilio, un'assemblea ecclesiastica a cui parteciparono almeno i due terzi dei vescovi della Chiesa cattolica del tempo, concilio a cui anche Lutero si era appellato chiedendo al Papa se non vuoi discutere tu la questione delle indulgenze e della grazia convoca un concilio, crea un'occasione nella Chiesa in cui le persone si incontrino e discutano di queste cose. Per 40 anni il Papa rifiutò questa proposta, salvo poi vista la magnitudo del fenomeno che ormai era diffuso dappertutto e stava guadagnando terreno, arrivare alla convinzione di dover convocare un concilio e infatti fu convocato il concilio di Trento e oggi vi farà anche piacere sapere che nella città di Trento oggi, domenica, mentre noi siamo qui abbiamo celebrato il culto c'è un incontro all'aperto nella piazza del Duomo dove il concilio di Trento si tenne per un arco di quasi vent'anni c'è un incontro di chiese evangeliche che nella città di Trento elevano le lodi al Signore e predicano il messaggio della grazia di Dio oggi a Trento e quindi in quella città simbolicamente sede del concilio che fu la risposta ufficiale della chiesa di Roma alla riforma anche oggi non solo a Perugia ma anche a Trento la riforma e soprattutto il Vangelo che generò la riforma viene annunciato in maniera pubblica dal 1545 al 1563 il concilio di Trento non continuativamente non è che i vescovi stettero lì 18 anni continuativamente ci stettero per quattro sessioni prolungate durante un arco di 18 anni discussero il modo appropriato per rispondere alla alla minaccia della riforma e svilupparono quella che possiamo chiamare una forma di cattolicesimo oppositivo alla riforma oppositivo cioè rispondendo alle istanze della riforma non le accolsero non ne furono neutri ma si opposero in maniera frontale alla riforma scelsero di atteggiarsi con un atteggiamento oppositivo alla riforma promulgando alcuni decreti e canoni cioè alcune dottrine fissate in maniera ufficiale che erano opposte a quelle dei riformatori e cioè promulgando dottrine secondo cui la salvezza ci viene data sia per grazia attraverso la grazia battesimale quindi non per fede ma per un atto sacramentale che viene applicato al bambino e che lo mette in moto sacramentalmente verso un percorso puntellato punteggiato da altri sacramenti con cui la chiesa che amministra la grazia all'inizio continua ad amministrare la stessa grazia attraverso i sacramenti e aspettandosi che questo bambino battezzato da piccolo pratichi le buone opere in modo tale che sommando i sacramenti alle buone opere prestate qualcosa si metta in moto che renda questa persona meritevole di essere accolto da Dio forse questo è il concilio di Trento che invece di accettare il fatto che la salvezza è un dono di Dio dall'inizio alla fine e che la grazia di Dio non è mediata dai sacramenti ma è mediata dallo Spirito Santo da Dio stesso nella persona dello Spirito Santo che applica l'opera del figlio di Dio al credente invece di accettare questo si oppose con una questa complessa dottrina della salvezza per grazia opere sacramenti in ultimo amministrata da questa potente istituzione ecclesiastica che si considerava quindi una sorta di amministratrice dispensatrice della grazia di Dio quasi che tra Dio e gli uomini ci fosse bisogno di questa Chiesa che amministrasse i rubinetti della grazia di Dio e occasionalmente in occasione degli anni santi o delle messe o di qualche altro atto liturgico i rubinetti della grazia venissero aperti e chi ci stava sotto potesse beneficiarne arrivò anche a ufficializzare dogmaticamente l'idea che la rivelazione di Dio cioè quello che noi possiamo conoscere di Dio ci viene sia dalla scrittura sia dalla tradizione che devono essere quindi accettati con pari riverenza dice il concilio di Trento cioè la parola di Dio non è la Bibbia soltanto ma è la Bibbia avvolta accompagnata preceduta e seguita dalle tradizioni della Chiesa è una parola per così dire imprigionata dentro le tradizioni della Chiesa queste sono dottrine ufficiali e poi come se non bastasse il concilio di Trento dichiarò anatemi cioè maledetti tutti coloro che avessero professato le dottrine dei riformatori che erano le dottrine della Bibbia cioè che siamo salvati per grazia mediante la fede soltanto che la parola di Dio è la Bibbia soltanto e che il fondamento della nostra salvezza non sta nei meriti e né nei sacramenti ma sta nell'opera meritoria sostitutiva di Gesù Cristo anatemi maledetti e capite allora che la Chiesa si dispose non con un atteggiamento ricettivo ma con un atteggiamento oppositivo a testuggine andò allo scontro frontale per cercare di arginare fermare bloccare soffocare l'espansione della riforma e a questi decreti e canoni del concilio di Trento seguì anche una importante tentativo di riforma interna della Chiesa Cattolica nacquero le parrocchie e cioè l'idea che siccome la Chiesa Cattolica era stata presa un po' di soprassalto non aveva il sistema immunitario non aveva le difese pronte per poter resistere allo sviluppo della riforma nei territori europei perché non era organizzata i preti non erano quasi mai residenti nei luoghi dove dovevano essere i vescovi benché nominati e quindi titolari di cattedre vescovili nelle varie città non abitavano lì perché si dedicavano a tutt'altro la Chiesa capì di Roma che se non si riorganizzava in maniera anche più stretta e pungente la riforma avrebbe continuato ad attecchire quindi la parrocchia l'idea il controllo territoriale dei cittadini e delle persone il fatto che ad ogni villaggio corrispondesse una Chiesa in cui un prete fosse residente controllasse i fedeli vedesse chi veniva messa a chi dava i sacramenti richiudesse le maglie della Chiesa è un'invenzione del Concilio di Trento così come i seminari attraverso cui i preti venivano formati prima della riforma un prete per essere ordinato quasi non doveva fare un percorso formativo non doveva studiare era più una questione di tradizione familiare nel medioevo nelle famiglie con figli numerosi uno diventava cavaliere uno diventava commerciante uno diventava prete e se era una donna diventava una anche suora era una forma sociale di distribuzione delle vocazioni non scelte ma imposte da un modello culturale e quindi i preti non erano necessariamente istruiti nell'essere nella dottrina della Chiesa Trento capì il Concilio di Trento che per contrastare invece la diffusione della riforma che massimamente investiva invece nella formazione perché i riformatori dicevano non siamo noi a predicare questo andate voi a verificare nella Sacra Scrittura e dicendo questo incoraggiava tutte le persone a imparare a leggere a scrivere a diventare dotti della dottrina della parola di Dio e quindi innescando delle virtuose dei virtuosi volani di scolarità di pratiche scolari perché quando si legge si scrive ci si confronta ci si argomenta reciprocamente le proprie idee cresce anche l'abilità culturale scolare della società i preti del tempo dei riformatori mentre i riformatori Lutero Calvino Zwingli venivano con argomenti esegetici argomenti legati al testo si richiamavano alla Sacra Scrittura questi non la conoscevano i preti non la conoscevano e quindi venivano sormontati da una cultura biblica dei riformatori dei pastori evangelici contro cui non sapevano confrontarsi non sapevano dire alcunché Trento disse la Chiesa deve organizzare la formazione i preti non possono diventare così se non dopo un lungo periodo di studi ed ecco i seminari i luoghi in cui i preti giovani novizi vengono formati per contrastare la diffusione dell'eresia e poi anche le missioni Trento diede incoraggiamento a non solo la difesa attraverso la parrocchia la formazione dei preti ma anche le missioni cioè il tentativo di andare a riprendersi quei territori quelle popolazioni quelle fasce della società che erano state attratte dal messaggio della riforma e quindi la nascita degli ordini missionari primo dei quali i gesuiti Ignazio Dall'Oiola è uno spagnolo che viene dalla carriera cavalleresca era un militare era una persona che aveva fatto la guerra un mercenario che folgorato da una vocazione religiosa fonda questo ordine chiamato società di Gesù e si mette al servizio del Papa dicendo noi dobbiamo riconquistare i territori le popolazioni che la riforma ci ha sottratto noi società di Gesù siamo alle tue totali dipendenze prestiamo voto di ubbidienza totale al Papa usaci per riconquistare i territori e le popolazioni alla Chiesa di Roma e parentesi su cui poi ritorneremo il Papa che abbiamo oggi regnante è il primo Papa Gesuita della Chiesa di Roma l'Ordine dei Gesuiti nacque per contrastare la diffusione della Riforma in che modo? nel tentativo di carpire i segreti della Riforma e di carpendoli riprodurli dentro l'involucro cattolico in modo che quello che le persone trovavano di affascinante di invitante nella Riforma l'avessero potuto trovare dentro la Chiesa Cattolica l'istruzione la spiritualità la formazione sono il DNA dell'Ordine dei Gesuiti che non hanno inventato loro ma l'hanno dopo un attento studio delle pratiche delle Chiese protestanti hanno cercato di riprodurlo sulla sulla base invece della proposta cattolica e il fatto che oggi abbiamo un Papa Gesuita è un elemento che dovrebbe farci riflettere tornerò alla fine su questo dato molto importante allora Trento da voce inaugura una lunga sequenza storica caratterizzata dalla opposizione della Chiesa di Roma alla Riforma opposizione che è durata è durata più di tre secoli più di tre secoli questa è stata la cultura del cattolicesimo romano che vedeva nella Riforma una minaccia da contrastare in modo oppositivo e non a caso nei secoli successivi quando la Chiesa di Roma ha ritenuto di dover usare la propria massima autorevolezza dogmatica nel proporre nel produrre dei nuovi dogmi delle nuove credenze vincolanti per la fede della Chiesa l'ha sempre fatto contro i principi della Riforma a cosa faccio riferimento voi sapete che la Chiesa di Roma nell'epoca moderna ha promulgato presentato formulato e ufficializzato tre nuovi dogmi cioè credenze vincolanti per ogni cattolico di buona coscienza tre credenze che fanno parte del nucleo della fede e che non possono più essere messe in discussione né cambiate né tralasciate 1854 il dogma della immacolata concezione di Maria l'idea che Maria sia stata preservata dal peccato originale e quindi anche lei sia stata concepita senza il peccato originale ora questo dogma che ripeto non è un'opinione non è un'idea di questo di qua è un dogma vincolato ogni cattolico dovrebbe crederlo in maniera limpida e totale non ha alcun fondamento biblico la Bibbia dice che esiste una sola persona senza peccato e questa persona è Gesù Cristo fatto uomo Maria è stata scelta per essere la madre di Gesù ma lei non è stata preservata da alcunché lei ha avuto bisogno del salvatore così come io e tu abbiamo bisogno del salvatore è un dogma antibiblico antiprotestante 1870 il dogma della infallibilità papale mentre la riforma aveva elevato la scrittura a parola aveva riconosciuto la scrittura a parola di Dio infallibile sotto la quale la vita delle persone delle chiese deve stare per essere ubbidiente a Dio la chiesa ha elevato l'autorità del Papa al crisma della infallibilità e così quando il Papa parla ex cattedra in particolari momenti dell'esercizio della sua autorità quello che dice insegna è infallibile contro la scrittura contro la riforma protestante 1950 terzo e ultimo dogma della chiesa di Roma promulgato alcuni di voi forse erano già nati 1950 il dogma dell'assunzione corporale di Maria cioè l'idea che subito dopo morta il corpo di Maria corpo e anima siano stati portati assunti direttamente in cielo senza passare attraverso la decomposizione del corpo anche questo dogma che di cui non c'è traccia nella scrittura contro la Bibbia contro la riforma che invece aveva esaltato la centralità di Cristo morto e risorto dai morti ma che non aveva per nulla fatto per esagire che anche la madre di Gesù o chi altro potesse essere riconosciuto come avente avuto una fine di vita diversa da quella di tutti noi questo è stato l'arco lungo che ha caratterizzato la chiesa di Roma per più di 300 e passa anni contro oppositivo e non solo ha avuto questo un'espressione dogmatica ma anche nel campo una opposizione alla diffusione dell'Evangelo in Italia in Spagna in Francia nei paesi in cui la chiesa ha riconquistato il territorio si è chiusa riccio alla testimonianza evangelica e ha perseguitato coloro che osavano sfidare il potere della chiesa attraverso la predicazione dell'Evangelo ora tutto questo è in qualche modo non dico finito ma dobbiamo essere consapevoli che a metà del XX secolo un po' oltre con il concilio Vaticano II 1962 1965 la chiesa di Roma ha in qualche modo modificato questo atteggiamento totalmente platealmente oppositivo non l'ha dismesso rimane nel suo DNA rimane nella profondità della sua autocomprensione il Vaticano II è un tentativo di rendere l'atteggiamento della chiesa non solo nei confronti della riforma ma nei confronti di tutta la modernità del mondo moderno delle tendenze sociali culturali politiche scientifiche religiose amichevole inclusivo non più oppositivo oggi la chiesa cattolica non è più contro quasi niente e apparentemente non contrasta più quasi niente anzi il messaggio consistente che questo papa impersonifica è il messaggio dell'abbraccio è il messaggio della misericordia è il messaggio della comprensione è il messaggio dell'ospedale da campo che non guarda chi viene chi non viene ma abbraccia tutti è la ripresa di quella idea antica che il concilio Vaticano II non ha inventato ma che era già dentro nel DNA della chiesa cattolica di abbracciare il mondo e di ricondurlo sotto l'unità e l'autorità dell'istituzione romana un po' come plasticamente la piazza San Pietro è stata costruita e ideata da quel genio che è stato Bernini Gian Lorenzo Bernini architetto italiano che ha visto proprio la chiesa cattolica come queste due braccia che è estese verso il mondo intero volessero abbracciare il mondo e portarlo vicino alla cupola che rappresenta l'istituzione potente di questo potere ecco Vaticano II è stato le due braccia della chiesa che dicono al mondo venite siamo fratelli siamo amici non c'è nessun nemico la scienza è nostra amica la società è nostra amica la cultura è nostra amica la riforma è nostra amica le religioni sono nostre amiche e la chiesa di oggi dice per essere salvati qualunque cosa voglia dire essere salvati uno non deve credere necessariamente in Cristo può essere musulmano può essere induista può essere ateo agnostico può essere diversamente credente non credente può essere protestante può essere quello che vuoi l'importante è seguire la propria coscienza e la chiesa è questa madre che aspetta tutti per ricondurre tutti all'unità questa è una diversa postura della chiesa cattolica che non è più oppositiva anche se non ha dismesso per nulla questo tipo di atteggiamento ma ce l'ha dentro il suo DNA solo che oggi appare amichevole sorridente abbracciante e inclusivo andate oggi a discutere con preti teologi esponenti ecclesiastici cattolici impegnati diranno ma queste cose la giustificazione per fede la salvezza per grazia ma sono cose del passato siamo fratelli predichiamo diciamo la stessa cosa ma che senso ha ancora tardarci a discutere diciamo la stessa cosa preghiamo insieme facciamo le cose insieme ancora a parlare le abbiamo superate le abbiamo superate questo è l'atteggiamento la stessa cosa che direbbero ai musulmani certo voi non credete in Cristo ma adoriamo lo stesso Dio preghiamo insieme quello che direbbe direbbero agli ate e agli agnostici ma non vi preoccupate creiamo pratiche di vita sociale all'insegna dell'umanità e tutto andrà bene questa diversa postura della Chiesa che noi dobbiamo di cui dobbiamo essere consapevoli non per combattere uomini e donne e concludo perché il nostro combattimento non è contro Tizio, Caio, Sempronio il nostro combattimento è contro i ragionamenti che in un modo o nell'altro o in modo positivo o in modo apparentemente conciliante hanno come obiettivo quello di distrarre le persone dalla conoscenza di Dio e invece di fare passare questa conoscenza da Cristo e da Cristo soltanto aggiungono altre vie altre forme altre strade in modo tale che le persone siano confuse siano sviate e alla fine perdute questa è la sfida oggi ricordare oggi la riforma significa non solo essere reinvigoriti nella nostra fiducia nella parola di Dio che da sola ha fatto tutto come Lutero diceva io bevevo birra e la parola ha fatto tutto beh non so se a voi piace la birra però con moderazione ma la parola di Dio fa è potente ed efficace per operare la volontà e l'opera di Dio ma la sfida davanti a noi non è più di essere a confronto con un cattolicesimo oppositivo apparentemente ma con un cattolicesimo abbracciante che invece di espellerci vuole includerci e il prezzo di questa inclusione è altrettanto alto del prezzo della esclusione e dell'opposizione noi non siamo contro nessuno protestare non significa essere contro qualcuno ma essere sempre a favore per la verità di Dio e così come siamo stati per la verità nel sedicesimo secolo dovendo fare i conti con un'istituzione che sia opposta alla riforma dobbiamo essere per la verità contro un'istituzione che apparentemente invece col sorriso latinoamericano francescano gesuitico abbracciante inclusivo ci vuole tutto intorno al suo tavolo non per un antipapismo non per un anticattolicesimo ma per l'amore della verità noi dobbiamo e dovremo sempre tenere alta la parola della vita a prezzo di della fedeltà costi quello che costi sapendo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro i principati e le potenze di questo mondo che a volte in modo violente o positivo a volte in modo suadente dolce in ogni caso cercano sempre di distrarre e di sviare questo mondo dal trovare in Cristo in Lui soltanto la via della salvezza che Dio che Dio ci faccia grazie di continuare questo cammino di riforma nella nostra generazione grazie grazie a tutti